Buon pomeriggio e soprattutto buona domenica. Continuano le giornate di sole qui all'Ippodemo di Agnano, ma soprattutto continuano i bambini con le proprie famiglie. Tanti bambini, tanti papà, tante mamme. Stamattina anche il mercatino dell'usato. Insomma, luogo giusto per trascorrere la mattinata e soprattutto il pomeriggio. Si inizia con una gentleman di quattro anni, otto in prima, tre in seconda, in undici. La scuderia è favorita. Uruguay, Ulrica S. Parte piano Uvaldietria. Partono bene i cavalli all'esterno di tutti, ma di galoppo il due Union Wise a S. E così a largo di tutti Ulrica tenta di scendere lungo i birilli con a largo la UEFA. Si va in piegata, tredici e mezzo in lancio, ma non riesce ancora a passare. La cosa avviene al completamento della piegata. E il buon Simioli con la sua S al comando. Si completa nei quattrocento, frizzanti, in ventinove e nove. Rimane nasino al vento il buon gallo e gli facciamo i complimenti ieri per solo barare una pennellata in quel delle capannelle. E nella scia si è posto ultimatum victory. Più pariglie, seicento, quarantaquattro e sette, da uno quattordici e mezzo si viaggia. Addirittura cinque pariglie sulla penultima curva, i dieci cavalli rimasti in gara. Ma intanto Ulrica amministra mezzo miglio in un e uno meno qualcosa, sedici e una di frazione, il due e l'undici a tabellone. Tenta la risalita e il quattro uva al dietro, ma troverà un po' di molto traffico. Però tutto sommato cavallaro punta in avanti. Allunga la leader, completa il chilometro in sedici e due e ne prende una e mezzo di margine. UEFA ha dato il meglio, è un po' in apnea e cavalli che affrontano l'ultima curva con Uma Pupa che non perde il contatto. Quattordici e otto fanno un e trentuni tre quarti di migli, gli altri un po' spettatori. Si affaccia a Uma Pupa, Massimio li mette mano alla frusta. Allunga Ulrica S nei confronti di Uma Pupa, scappa via Simioli. Uma Pupa in seconda posizione, viene via la grande uva al dietro e a largo ultimatum trova il barco anche il buon vitiello. E mentre Ulrica parla un'altra lingua, per il terzo l'ottimo vitiello con universo numero undici. Anche lui in un periodo magic, magic moment del buon vitiello, porta a casa la terza moneta. Ma intanto sta a tabellone l'undici, quindi ha fatto un arrivo inutile, ma gliele facciamo lo stesso i complimenti. Allora, primo il sette, quindi Ulrica S, facile, nelle mani di Simioli. Al secondo posto, vedete, alla grande Uma Pupa. E per il terzo, bocciato l'undici, e il sei di ultimatum victory. È tutto, linea allo studio, 1,58 al totalizzatore. È tutto, linea allo studio, è tutto, linea allo studio. È tutto, linea allo studio.